L'ultima edizione di Stadioniosi Studio Marco Gullà. L'obiettivo ufficiale improvvisamente diviene la zona intertoto, ma sembra davvero difficile credere che il Palermo in estate possa partecipare a questa competizione per rientrare in Coppa UEFA dalla porta di servizio. Allora bisogna capire cosa vuole fare il Palermo in queste ultime giornate. Sabato c'è la Fiorentina all'Artemio Franchi, una gara sentita ma soprattutto da parte di Viola che devono consolidare la loro posizione in zona Champions League. Il Palermo cosa intende fare? Prosegue la preparazione del Palermo in vista della gara di Sabato stella al Franchi contro la Fiorentina. Nessuna novità contro i Viola, Stefano Conantono non potrà avere a sua disposizione Fontana e Simplicio. Entrambi continuano infatti a svolgere lavoro differenziato. Contro la Fiorentina tornerà a giocare dal primo minuto Mattia Cassani che sostituirà Zaccardo sulla fascia destra. Al centro non ci sarà Barzagli sconificato ma probabilmente la coppia Rinaudobbiava con Balzaretti sulla sinistra. Tanti candidati per il centrocampo in avanti confermato il tandem a Mauri Miccoli. Proprio quest'ultimo ieri in una partitella giocata al Barbera ha messo a segno una doppietta. Carvaglio Zolivera Mauri è lui il nome che giorno dopo giorno arricchisce le pagine di Calcio Mercato. Il brasiliano tra le righe conferma di essere molto vicino alla Juventus. Il primo giorno che sono venuto qua mi sono sentito subito a casa. Mi hanno dato tanto subito il primo giorno perciò quando scendo in campo anche magari se la partita va storta o non faccio gol io do il massimo quello che posso dare. Perciò quando esco dal campo esco con la testa alzata perché ho dato il massimo e fin quando indosserò la mare di Palermo farò sempre come ho fatto. Dalla prima partita all'ultima. I tifosi nei miei confronti mi hanno dato sempre tanto. Io spero di averne dato tanto a loro e spero di dare tanto a loro. Adesso si parlano tanto però adesso ancora non è finito niente. Non è niente di finito. Se un giorno andrò via da Palermo l'unico ramarico è di non aver, come posso dire, non dico ho vinto qualcosa, però non aver aggiunto l'obiettivo che era quello di andare in Champions League. Il direttore sportivo del Palermo Rino Foschi intervenuto a Calcio Parlato su Staglio News 24 ha tracciato una breve parentesi di calcio mercato e ha delineato la situazione attuale del Palermo. Ci è scomodato lo Juventus, il Presidente è andato a Calcio di Zamparini e ci siamo trovati perché hanno un'attenzione particolare su Amauri che è un giocatore che interessa molto loro. Quindi ci sono i presupposti perché quando si sposta un Presidente alla casa di un altro il motivo era questo, ci sono dei presupposti perché l'operazione possa andare a buon fine però c'è da lavorare. C'è un mese da lavorare, da vedere un attimino cosa c'è sul piatto e i due direttori secche e foschi dovranno lavorare questo mese per vedere se c'è una tazza. Per quello che possiamo mettere insieme, una cosa è certa è che la Juventus è interessantissima all'operazione ed è interessante al giocatore Amauri, dopo Amauri deve andare alla Juventus, devono farlo con lui, ha dato carta bianca alla Juventus di avvicinare i produttori di Amauri, è partita una strategia di lavoro che è quella che si fa in qualsiasi operazione. Cesana Prandelli per la partita di sabato contro il Palermo dovrà rinunciare al solo Semioli, per il resto tutto confermato. Contro il Rosanello dovrebbe andare in campo la stessa formazione che ha giocato domenica scorsa a San Siro. In avanti quindi è riproposto il tridente Santana Pazzini Mutu, oggi per i Viola allenamento poveridiano. Grazie al comportamento esemplare mostrato dalla tifoseria del Palermo nelle gare di campionato, anche in occasione della trasferta di sabato sera a Firenze, i fans di Rosanello potranno essere presenti sugli spalti del Franchi. Chi volesse infatti assistere dal vivo alla gara contro i Viola potrà farlo acquistando i biglietti messi in vendita al prezzo di 20 euro cada uno nelle tabaccherie di Piazza Marina 2, di Piazza Nombosco 16 e di Vialin con 169 a Palermo. Per la nota agenzia di scommessa è cursa al bookmaker, la fiorentina è favorita sul Palermo nella gara in programma sabato sera al Franchi. Il successo dei Viola conta da 1.50, il pareggio a 3.50, la vittoria dei Rosanello a 8.